A bella raga ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale Quest'oggi ragazzotti miei siamo qua tornati su Brawl Stars con due direi bestie Alion e Mommy Jordan che sono qua con me Ciao a tutti ragazzi Ragazzi oggi novità incredibili partiamo intanto dal server discord del team Humble Perché ancora per chi non lo sapesse sono entrato negli Humble come content creator Team competitivo di Brawl Stars tra l'altro sono in corso anche i playoff Adesso qua per chi non è del mondo è sempre un po' difficile da spiegare Comunque vi consiglio di guardare il Twitch di Eslitalia per vederli giocare Perché arriveranno roba incredibili nei prossimi giorni che in realtà sono già in corso Comunque a parte questo fondamentale giù nella descrizione trovate il discord del team Humble Vi raccomando entrateci perché oltre comunque a poter interagire col team Avrete anche la possibilità di giocare con noi anche con loro anche in vocale insomma roba incredibili Quindi come detto lo trovate giù nella descrizione nel primo link passateci E oltre a questo perché siamo qua Io ragazzi non so che clickbait incredibile vi avrò messo ma Mommy Jordan nel senso io non parlo guardate solamente i gradi E potete constatare da soli che qua non abbiamo legalità Per me questa non è roba legale A tutti i brawler al grado 35 di cui fatti 6 Giusto Mommy in una settimana? 10 giorni in una settimana? Quelli che vedi arancioni Veramente non so che dire Tra l'altro 6 gradi 35 in una settimana mi sa che è il record mondiale E tra l'altro bisogna anche specificare una cosa Che Mommy Jordan ha cambiato più account Questo è il terzo E questo account ce l'hai da 9 mesi mi hai detto? 8 mesi 8 mesi Cioè lui in 8 mesi ha fatto tutti i rank 35 Io che gioco da un anno e mezzo su questo account La mia situazione è questa Direi che è un po' così Poi beh c'è anche Alion Vi ricordo nuovo membro del team Humble Anche lui molto forte Ha fatto 33.000 coppie come record Anche lui diversi gradi 35 Cioè più che diversi Insomma robe incredibili Ad ogni modo raga quest'oggi siamo qua anche per fare qualche partita con loro Perché dovete anche insegnarmi trucchi Dato che io sono un bot allucinante Qualche trucchetto Se imparo da loro i trucchi per vincere Si gioca Cioè si gioca E appunto qualche consiglio tattico Quindi io già partirei dalla comp Ditemi voi sono a vostra disposizione Allora A 500 coppie la comp è Random Quello che vuoi Perfetto Parlate come se fosse la finale Nella World Championship Madonna Sì perché qua bisogna arrivare proprio Bisogna capire quali sono Come parlate voi pro player Come fate Quindi io Ok ok Alion sulla sinistra Vabbè vado a destra Il Raxor Quindi io Io in questi casi Intanto Mortis va nella porta a caso Bella per lui Direi che questa è chiaramente una mossa tipica da top player Assolutamente Poi in alto a sinistra Energetic Beh comunque Beh comunque Potremmo forse già qua chiudere il gol Dubito perché c'è Bull che è cattivissimo Però E secondo me E secondo me E secondo me il gol è stato fatto Ora però il Bull potrebbe arrivarci in faccia Vediamo un po' cosa In che senso Eh no Suona un po' male No 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 Eccolo hai fatto infatti 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 Detto fatto Sì vabbè ragazzi ma Ma perché quando gioco io con Vabbè Sarà loro Perché qua sembrava veramente di giocare con persone Adesso non vorrei offendere nessuno Però Diciamo con dei problemi tecnici Posso 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 Non posso Non posso Mi dissocio Signori di Youtube Mi dissocio Non ho detto questo Stavo veramente scherzando No comunque Nel senso sembravano veramente Molto più scarsi di quelli che trovo di solito Quindi qualcosa qua mi puzza Tutto qua Sì E se è colpa loro ragazzi Colpa loro che sono talmente forti Che fanno sembrare gli altri Dei bot allucinanti Vabbè comunque prossimo game Dynamite E tick Ora vai to mid Rax Ok Mi piace mi piace Ottimo ragionamento Infatti vado a morire E Comunque Niente Già vanno a fare gol mi sa Eh la parata La parata La parata Incredibile GG Buffon in porta No comunque a parte questo Cioè io non credo che Si comunichi in questo modo Dai Diciamoci la verità Allora Eh Per quanto riguarda le chiamate Delle posizioni Sì Ok Quindi si tende a chiamare Magari se un avversario ha la ulti Eh Se uno è morto o meno Perché comunque aiuti Infatti che forse riesco a fare gol No Eh 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 Ma avete visto raga Ma non era una parata Cioè nel senso Io Voglio il VAR qua In realtà non l'ho visto io Io voglio il VAR Perché l'ho visto dentro Ora Ora Se toccano la palla E rimbalzo sulla palla Ah infatti Ho visto rimbalzare sulla Madonna Che scam Allucinante Sì Vabbè 1-0 per noi Perché forse voglio fare il gol No Sulla linea ovviamente Beh comunque Direi che il risultato finale È sempre quello Direi che il rank 30 Posso fare un rank 35 Come voi Posso In questo video posso Facciamo mille coppe in una bozza Finiamo domani No però veramente sembra Ok che siamo ancora bassi di coppe Cioè personalmente Neanche io a ste coppe avrei avuto problemi Però qua Cambio brawler Mi sembra che veramente È troppo facile Quindi per quello vi dico Mi raccomando Passate da discord Perché magari avete la possibilità Di giocare con loro Tramite dei contest E secondo me Ne vale la pena Perché magari Potrebbero arrivare Anche da parte vostra Dei gradi 35 Così tranquilli E spensierati Come se non la fosse Comunque Cavolate a parte Io ho messo Piper Con Piper Ho fatto bene a mettere Piper Diciamo lì Questa volta Beh ragazzi Voi mi avete detto a caso Io sono andato a caso Quindi qua è colpa vostra Se posso Effettivamente È stata una bad soul Da parte mia Se posso permettermi Dovete specificare Perché Ricordatevi che state parlando Con uno showdown player Quindi io Per me un brawler vale l'altro Ecco E niente Non sto capendo Che sta succedendo Qua nel centro Volevo fare una Una provata Mi ho sbagliato Comunque a parte questo Qual è la vostra modalità preferita? È da giocare Brawl Ball Per quanto riguarda Il ranking Consiglio Oddio No Sì Per quanto riguarda Rancare Brawl Ball Decisamente Cioè Scusami Giocare normalmente Brawl Ball Perché È divertente Fare i gol Eccetera Eccetera Ah ok Rancare Ma tipo Ho visto che molti Fanno cose anche su dominio Tipo Oddio Dominio Sinceramente Sì È molto A me non piace Rancare Però a me non piace Come alien Non mi piace proprio Per rancare È chiaramente Semplice Soprattutto se utilizzi Delle comp Che in quella Determinata mappa Sono distruttive Perché Basta entrare Nella zona E la partita vince Cioè Si vince Abbastanza Velocemente Esatto Ma tipo Anche nelle modalità In cui Tipo Quando dovete fare I tornei Esempio Cioè Voi come vi allenate Per fare le partite Quelle importanti Andate sempre Quei brawler alti A cercare di Non so Cosa fate Allora Di la verità Ci si allena Facendo le amichevoli Contro altri team forti Ah ok La ladder No Non serve Ok Vabbè anche perché Poi lo stile di gioco È diverso Ad alte coppe Comunque non giocano Come giocherebbero Una partita Completiva Si poi Si possono Bannare anche I certi brawler Che Vabbè ovvio Cambia proprio Cambia tutto Cosa ho fatto No vabbè ovvio Volevo usarla ulti Mi sono trovato La palla in mano No vabbè Comunque ci sta interessante Sopera anche queste cose Dato che magari Alcuni sono interessati Ad approcciare Accodè sto mondo Io Boh È un mondo bello raga Secondo me Cioè se Vi piace giocare a Brawl Stars E se avete Dei vostri amici Con la quale vi trovate bene Siete in sintonia È veramente un ottimo mondo Da vedere di farci l'ultima Faccio un altro brawler A 5.50 Così totalmente random Accetto sempre il loro consiglio Di usare i brawler a caso E vado con Boh Ottima decisione Ottima decisione Benissimo Con un team dorato Esatto Ho anche due brawler dorati A fianco a me Sto notando la loro comp Che anche la loro è abbastanza strano Però vabbè La loro comp è strana Ti lascio in mid Grazie Si Se riesco Molte volte Non bisogna per forza Killare i nemici Ma si può avanzare Anche senza Ragazzi Per quando Prendete anche voi Questi consigli Come oro Perché Se ce lo sta dicendo Alien Secondo me È un buon consiglio Soprattutto Se ve lo sta dicendo Con una skin dorata Soprattutto Con una skin dorata Vabbè Le skin dorate Dai Quelle posso avercele Anche io Io adesso Ho un sacco di oro Da parte Che non uso Perché non lo so Cioè ho anche 100.000 punti stellari Ma non li uso Non chiedetemi perché No in realtà il mio ragionamento è Smetti caso che escono Altre skin stellari Da 50.000 Almeno posso shopparle subito Quindi nonostante Non abbia le altre due Riesco a aspettare Nel caso Poi dal momento In cui arriva 150.000 Allora lì Posso comprarle Tutte e due Ah ho capito Un ragionamento Veramente molto logico Devo dire Comunque forse Qua riesco a fare gol Invece non riesco Ma mai nella vita Riesco Vabbè Ci riusciamo noi In teoria E let's go Easy Buono buono Andiamo con il secondo Proprio lui In dieci secondi Dieci secondi Eh boom Annaggia M'ha distrutto Ce la facciamo Ce la facciamo Ragazzi Ma sto morendo solamente io O Ah ecco è morto anche mommy Ogni tanto muore anche qualcun altro Grazie mille Quattro partite Così quattro brawler A 5.50 Tranquilli Spensierati Come se nulla fosse Io raga Vi invito nuovamente A passare dal discord Dei humble Che trovate giù in descrizione Perché ci saranno contest Per giocare anche con loro E tante belle cose Insomma E niente raga Io chiuderei qua il video GG per loro GG a te Rax Grazie di averci invitati Niente grazie a voi Ciao ragazzi Bella raga E bellissimo Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti.